Vabbè, vabbè, succedono cose illogiche come ha detto il nostro CT Luciano Spalletti, non ho registrato subito perché volevo sentire che cosa aveva da dire perché ero molto molto interessato a quello che aveva detto a fine partita e ha detto che si sono sbagliati due o tre gol che noi non possiamo sbagliare e può essere anche vero, però ragazzi non ci si può ridurre all'ultimo secondo con una giocata pazzesca che a me che sono del 96 quindi avevo dieci anni in quel mondiale in Germania ha ricordato molto il gol di Del Piero, non per l'azione, mi parlo del gol di Del Piero contro la Germania al mondiale del 2006, ma me l'ha ricordato per il tiro, per dove il pallone è entrato, per il minuto, insomma per l'importanza del gol e tutto e quindi sono felicissimo, strafelice, ma se dovessi commentare questa vittoria dell'Italia direi immeritatissima, anche perché Donnarumma è stata un'altra parte del migliore in campo perché ha fatto un paio di interventi più in rigore di una straordinaria importanza e di una straordinaria bellezza e mi ricollego a quello che ho sentito qualche giorno fa in un'altra trasmissione molto nota che c'è qui su YouTube in cui un commentatore a cui va dato tanto di cappello diceva che il problema dell'italiano in generale è quello di essere invidioso di chi ha successo, è bravo, fa i soldi, è giovane, quindi ha successo l'italiano medio è incredibilmente invidioso di quello che accade ad alcune persone e parliamo di Gigi Donnarumma, perché se abbiamo un fuoriclasse quello lo abbiamo in porta e questa sera ce l'ha dimostrato un'altra volta perché è vero che poi prende gol, ma prende gol per una sbavatura difensiva incredibile Stessa difesa che poi grazie a Calafiori che non è nuovo a queste uscite palla al piede, anticipo uscita palla al piede, vede Zaccagni che poi il merito sia in parte sì di Calafiori che riparte e dà quel pallone ma soprattutto di Zaccagni che fa un grandissimo gol perché poi lì la devi mettere, devi avere la sensibilità per fare quel tipo di gol e per portarci da secondi alla sfida contro la Svizzera Non è scontato questo pareggio e non è scontata la qualificazione perché stavo vedendo qui a casa la partita e vedevo un pochino quelli che potevano essere gli incroci e l'Italia rischiava anche per la differenza di non rientrare tra le migliori terze tra un po' e questo poteva essere frutto di grandissima delusione e invece nonostante una partita brutta come ha detto Spalletti l'importante intanto è aver passato il turno Per me è una nazionale che così ha poco seguito, ha poco percorso ancora di fronte a sé giocheremo l'ottavo di finale contro la Svizzera, poteva andarci peggio ma poteva sicuramente andarci meglio È una squadra che a differenza della Croazia avrà ancora più ritmo, avrà ancora più corsa e potrà metterci molto in difficoltà Mi è dispiaciuto non vedere Bellanova anche questa sera, un'opportunità il Sharawi non l'ha data però insomma è entrato Zaccagni e ha fatto gol Non capisco la situazione per cui Chiesa giochi sempre a destra, io lo vedo molto di più dall'altro lato e infatti anche stasera secondo me ha fatto fatica Ha sbagliato per me la palla al centro per Scamacca e Frattesi perché andava data leggermente più dietro, aveva lo spazio per farlo Dal divano siamo tutti bravi però Spalletti quando diceva quei due o tre gol che ci siamo mangiati intendeva anche la palla data male da Chiesa Le due palle gol di Bastoni, comunque abbiamo avuto l'opportunità di segnare però non è assolutamente sufficiente la prova Non è assolutamente sufficiente la prova di Giorginio secondo me ancora un'altra volta Pellegrini ha anche poca poca roba, Retechi inesistente cioè nel senso ha provato a fare ma ha sbagliato anche una palla semplice per Scamacca poco prima del gol di Zaccagni Insomma una serie di cose che vanno riviste, secondo me deve cambiare qualcosa contro la Svizzera perché sarà una partita Che avrà una grossa intensità fisica e l'intensità fisica con questi interpreti la possiamo pagare Abbiamo bisogno di gamba, abbiamo bisogno di freschezza perché comunque si è fatta tanta fatica per raggiungere questo pareggio E adesso però deve iniziare un altro campionato europeo, cioè l'Italia deve mettere in campo la sua qualità, la sua forza, le sue individualità Deve chiedere di più a Scamacca, deve chiedere di più a Chiesa, deve chiedere di più a Frattesi, Barella e Pellegrini che la qualità per fare meglio ce l'hanno Bisognerà vedere se Zaccagni, visto l'ottimo ingresso contro la Spagna e l'ottimo ingresso stasera con il gol Che di fatto ci ha dato il secondo posto della qualificazione e ha eliminato la Croazia Perché a meno che di clamorose notizie dagli altri campi la Croazia è eliminata questa sera e finisce Termina un ciclo importante che li ha visti comunque anche stasera a battaglieri e c'era da aspettarsi Perché chi pensava che questa sera l'Italia andasse a fare una passeggiata di salute si sbagliava proprio Perché la Croazia ha le qualità per poterti mettere in difficoltà e aveva fatto gol poi con l'uomo simbolo Sarebbe stata una storia straordinaria per i Croati passare con un gol di Modric che poco prima aveva sbagliato il rigore La chiusura e l'apertura di un cerchio, di un ciclo E poi è stato bravo Zaccagni perché quel gol ci ha letteralmente salvato la faccia, la figura e la serata Perché adesso vediamo il bicchiere mezzovieno, è tutto bello Però per me c'è poco da ridere, poco da divertirsi, poco da stare sereni Perché ripeto andiamo ad affrontare una squadra che innanzitutto nell'ultimo campionato europeo ha buttato fuori la Francia E questo va detto, va detto Non so se il campionato europeo ha buttato fuori la Francia E' una squadra forte, è una squadra con grosse individualità, con tanto spunto, con tanta gamba E noi dobbiamo recuperare assolutamente e dobbiamo metterci in testa che l'intensità deve per forza di cose aumentare Perché con questo ritmo e con questi giocatori a questo livello non possiamo andare troppo lontano Sono contento per il gol, ovviamente ho risultato come non mai al gol di Zaccagni, ero contento Però c'è da fare una grossa riflessione, è una grossa riflessione anche Spalletti Che comunque quando poi va a fine partita a parlare, a discutere della partita lascia sempre poco intendere Nel senso che secondo me ci dà poche spiegazioni Ce ne dovrebbe di più, ce ne dovrebbe dare di più perché meritiamo più spiegazioni Però le scelte stasera hanno pagato e è stato anche fortunato con quelli che sono entrati Perché ripeto, poi dopo, devi dare l'opportunità secondo me ad alcuni giocatori di poter esprimere il proprio valore Soprattutto quando vedi che la squadra non gira, quando la squadra non va, non è pericolosa Perché la Croazia ragazzi a parte quella sbavatura ha fatto poco, ha fatto poca fatica a difendere Ma noi le opportunità o le potenziali opportunità le avremmo avute Ma non siamo riusciti a sfruttarle e soprattutto ad essere come contro la Spagna In grado di pulire la palla in maniera efficace Oggi ti mancava scamacca davanti e poteva essere il problema dell'inizio Lui gli ha messo la squadra vicino, ha tenuto fuori chiesa Ma secondo me non ha pagato la soluzione È vero, potevamo segnare, ma spesso da palla in attiva con Bastoni che ha avuto due grosse opportunità oggi Però poi poco o niente ragazzi, per quanto mi riguarda Quindi io valuterei molto attentamente il da farsi contro la Svizzera Perché la squadra ci può fare veramente tanto male Dall'altra parte la Spagna vince contro l'Albania Albania ultima del girone con un solo punto Non è stato fatto il super biscottone che ci potevamo aspettare Ha vinto 1-0, credo che se non vado errato non è cambiato il risultato Con un gol di Ferran Torres Arriva prima, affronterà una delle migliori terze Sicuramente ad oggi la Spagna la potremo rincontrare solo in un eventuale finale Che per me è molto lontana sia per le aspettative che abbiamo Ma anche poi concretamente per quello che valiamo Siamo lontani secondo me nel percorso rispetto ad altre squadre Siamo meno forti di altre nazionali, lo sapevamo Però siamo italiani, non dobbiamo mollare, dobbiamo crederci E questa sera ci deve far capire che nonostante non abbiamo giocato un'ottima partita Siamo riusciti a levare le castagne dal fuoco Grazie a una prudezza di un singolo E grazie alla perseveranza su un giocatore che è stato Calafiori Che anche questa sera ha giocato secondo me una buona partita E alla fine ha trovato la giocata vincente per la meraviglia assoluta di Zaccagni Che però è comunque arrivata tardi, è arrivata all'ultimo E questo ci deve far pensare che non tutto è perfetto Ma tutto sicuramente può solo che migliorare Perché peggio di così sinceramente la vedo molto dura Scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate Finisce uno a uno tra Quarzia e Italia L'Italia passa come seconda e affronterà negli ottavi la Svizzera Dalla vostra domanda un grande abbraccio Ci vediamo domani con un prossimo video